Bene, grazie. Io condivido questo percorso da quattro anni e sono contento di venire anche per una semplice benedizione perché questa volta sì, credo che si possa dire bene dell'iniziativa che si sta portando avanti. È vero oggi festa dell'Europa, ma la sentiamo questa festa dell'Europa, la sentiamo nella visoria in cui ci consideriamo cittadini europei. Credo che dobbiamo sentirci sempre di più cittadini europei. Complimenti per i lavori che avete portato avanti. Soprattutto esprimono l'immagine di una scuola che non si chiude nelle quattro mura, ma che si apre, si apre soprattutto al territorio, alla realtà, alle problematiche. Va oltre le considerazioni cabanilistiche, un particolarismo che spesso e volte ci porta alla fuga, quell'exit e per uscire fuori da una realtà comunitaria, qual è l'Europa dalla quale, credo, possiamo soltanto attingere valori fondamentali, quei valori che hanno ispirato i padri fondatori.